La questione dei pochi vigili che ci saranno a disposizione, il comandante diceva che ce ne saranno forse 100 in meno, quindi servirà uno sforzo in più degli ufficiali, dice che ci sarà un incontro a gioco. Sì, però non dobbiamo dire sempre che ci sono pochi, perché sennò io non avrei proprio cominciato a fusire, perché io come sono entrato qua dentro, la prima cosa che ho scoperto è che non c'era un euro e quindi avrei dovuto dire, signori, sono stato eletto, vi ringrazio, così come se non è stato eletto me ne va. Quindi va bene dire sempre che siamo in meno, però ti raccontiamo pure alla stampa che grazie allo sforzo di questa amministrazione dal 1 gennaio avremo 96 poliziotti municipali in più e grazie alla credibilità di questa amministrazione durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del Ministro dell'Interno, del Capo di Cabinetto del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia, quindi la Morgese, Piantedosi e Pansa, noi abbiamo chiesto al Governo la possibilità di scorrere tutti i doni. Quindi 96, i doni sono 178, fatevi il conto, da 96 a 178 ne potremmo prendere altre tante. E ho visto un atteggiamento, un impegno da parte del Governo e mi fa ben sperare. Quindi è vero che ne vanno via 100, però se noi raccontiamo solamente che non potremmo migliorare perché c'è qualcuno che va via, non la penso in questo modo. Io penso che questa città vada un po' controcorrente. Sapete che ho sempre detto i limiti che abbiamo, ma se uniamo le forze, Polizia Municipale, Protezione Civile, Dipendenti ANM, Dipendenti Napoli Servizi, Asia, ABC, Cooperativa 25 Giugno, Primavera Terza, LSU, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i Cittadini, siamo sempre pochi. Quello è un dato oggettivo, sono i numeri. Noi abbiamo 800 poliziotti municipali in meno, non 100, 800 rispetto all'organo. Però a noi compete lanciare il cuore a te lo Stato. Cioè sono giorni in cui noi dobbiamo garantire dei servizi migliori e quindi io mi ci metto anche io, starò anche io. Lo sapete, faccio anche io. Dobbiamo starci tutti. Altrimenti noi non raggiungeremo mai purtroppo quel target. Anche oggi ho salutato un dipendente molto noto del nostro comune che va in pensione insieme ad altri quattro. Quindi noi abbiamo sempre, rispetto alle chiacchiere che ci hanno detto sul quota 100 e sul turnover e sulle cose, noi avremo sempre più pensionati rispetto agli assunti. Quindi noi da questo punto di vista avremo sempre meno. Però non deve diventare analibi, anzi deve diventare per quelli che ci stanno l'orgoglio di avere una divisa, di avere il vestito del dipendente comunale e del sindaco e di fare molto di più. Ed è proprio con questo spirito che noi siamo arrivati ad essere la prima città d'Italia per crescita turistica culturale. Nonostante, quindi deve essere un merito che noi ce lo mettiamo come medaglia e non deve essere solamente una cosa di dire no, non possiamo garantire un servizio in più perché saremo di meno. Perché sappiamo tutti che certe volte bisogna essere anche particolarmente bravi a lanciare il cuore oltre l'ostacolo e organizzare al meglio una serie di servizi. Perché noi conosciamo le cose positive, però qualche volta dobbiamo essere anche capaci di riconoscere che ci sono dei limiti e delle cose che si possono aggiustare. Grazie anche alla critica costruttiva che ci fanno i cittadini e la libera stampa quando ci fanno dare qualcosa che non funziona, alla quale chiediamo anche però di sottolineare le cose che vanno e anche le difficoltà di amministrare una città come Napa.